Le notizie dalla regione, antico e moderno in parallelo al palazzo dei papi di Viterbo dove in fase di montaggio l'opera pittorica moderna più grande del mondo. Una macchia di colore di circa 220 metri quadrati che dopo un giro espositivo in Europa sarà messa all'asta per scopi umanitari. Ma sentiamo Fausto Pace. Il palazzo dei papi di Viterbo si prepara ad ospitare anche quest'anno la mostra Mercato Nazionale dell'Antiquariato. Quest'anno c'è una novità interessante. Entriamo, vediamo di che si tratta. Ecco, la novità è costituita da un olio su tela di 65 metri. È l'olio su tela più lungo del mondo eseguito da un solo artista. Ce l'abbiamo qui, il maestro Francesco Antonacci. Com'è nata quest'idea? E soprattutto questo quadro, che cosa rappresenta? Questo quadro, prima di tutto, non è 65 ma è 63 metri. Rappresenta un po' la storia del mondo, dell'uomo, dalla crescita dei titani al tempo moderno. Vuole essere un messaggio d'amore e di pace? Un aiuto per discutere di questo problema nel mondo della libertà, democrazia per tutti. Colori bellissimi, da dove li ha presi? Questi colori li ho presi dagli Alisei. In Giamaica ci sono degli Alisei, dove Colombo con l'aiuto degli Alisei arrivò a scoprire l'America. La storia del mondo è la storia del mondo è la storia del mondo. Siamo all'ingresso del Palazzo dei Papi di Viterbo. Qui durante il 1200 si tenero tre conclavi. In uno il popolo scoperchiò il tetto e rinchiusi a chiavi cardinali che non si decidevano ad eleggere il nuovo pontepice. Da nove anni in questo palazzo si tiene una mostra nazionale dell'antiquariato. Proviamo ad entrare. Nella grande sala del conclave troviamo esposto il quadro più lungo del mondo. Una tela lunga 63 metri dipinta da Francesco Antonacci. La storia del Palazzo dei Papi di Viterbo è la storia del Palazzo dei Papi di Viterbo è la storia del Palazzo dei Papi di Viterbo. La storia del Palazzo dei Papi di Viterbo è la storia del Palazzo dei Papi di Viterbo. e lui già li mette, Stefano li mette già il ganchetto dentro. Qua vai, non sei col troppo in punta con il troppiello. La storia del Palazzo dei Papi di Viterbo è la storia del Palazzo dei Papi di Viterbo è la storia del Palazzo dei Papi di Viterbo. La storia del Palazzo dei Papi di Viterbo è la storia del Palazzo dei Papi di Viterbo e Viterbo, E' facile il discorso, quello lì, facciamolo sopra e facciamo dei bagni, forse, andamolo via, aspetta che tolgo lo scala qui, la scala ve la diamo tutta fuori, si, è caro Imagine there's no heaven, it's easy if you try No hell below us, above us only sky Imagine all the people, living for today Imagine there's no country, it isn't hard to do Nothing to kill or die for, and no religion too Imagine all the people, living life in peace You may say I'm a dreamer But I'm not the only one I hope someday you'll join us And the world will be one Imagine no possessions I wonder if you can No need for greed or hunger Or brotherhood or man Imagine all the people Sharing all the world You may say I'm a dreamer You may say I'm a dreamer But I'm not the only one I hope someday you'll join us And the world will live as one In the third one The world will live as one In the next world If you can see the world In the next world In the next world You may say I'm a dreamer You may say I'm a dreamer You may say I'm a dreamer